Il grande gesto di solidarietà della ECM Caterpillar, importante azienda pistoiese, che ha donato 10.000 euro alla Fondazione Mike di Pistoia. E' stato l'amministratore delegato dell'azienda Paolo Covoni a consegnare a Luigi Bardelli, presidente della Fondazione Mike, il simbolico assegno durante una breve cerimonia che si è svolta nell'auditorium della Mike. Il perché di una scelta di questo tipo è quindi donare alla Mike in questo Natale questa cifra. Ripeto che questa è stata una scelta importante ma più che un piacere è stato un privilegio perché Mike è un'eccellenza sul territorio nell'ambito dell'assistenza a persone disabili. Noi come anche dopo l'acquisizione di Caterpillar siamo molto sensibili a questo tipo di associazioni e essendo Mike un'eccellenza sul territorio, come pensiamo di essere un'eccellenza nel nostro segmento, nel segmento del segnalamento ferroviario, abbiamo pensato di fare questa donazione che, ripeto, più che un piacere è un privilegio perché quello che fate è un qualcosa di straordinario. Veramente lo apprezziamo tantissimo e quindi è il minimo che potevamo fare quest'anno per celebrare degnamente il Natale. Per ricevere queste donazioni che la Mike sono essenziali per lo sviluppo di tutto il lavoro di riabilitazione le rette che dà lo Stato sono relativamente importanti ma non bastano certo perché ciascun ragazzo possa trovare la sua strada e le regole sono fatte su uno standard generale per tutti ma il sovrappiù delle donazioni è quello che ci permette davvero di pensare ad ogni singolo ragazzo che non sono i disabili ma sono persone, si chiamano Vincenzo, si chiamano Marco, si chiamano Luigi, si chiamano Antonio e queste sono le singole qualità con il loro nome e cognome di ogni ragazzo per ogni ragazzo ci vuole qualcosa di speciale anche perché la donazione è gradita e ringraziamo molto DCM Caterpillar perché sul territorio è un'eccellenza ci fa piacere che abbia questo rapporto e questo contatto con un ambiente come il nostro che insomma serve tanta gente sul territorio e sulla provincia e questi sono i valori più importanti e lo terrete in un posto da... un subito di subvenio, grazie a voi